Tra i migliori, Manuel Coscione, questa sera abbiamo ammirato una bella callipo, un po' come si era soliti vedere in tempi passati. Forse la migliore prestazione interna è mancato davvero poco stasera. Più che altro dopo un periodo nero abbiamo fatto punti, abbiamo mosso la classifica, si è visto un po' di bel gioco. Era importante per noi, per il nostro morale, per trovare un po' di fiducia nel nostro gioco e noi stessi fare una prestazione del genere. Siamo contenti perché abbiamo giocato alla pari con una grande squadra, abbiamo perso 7 vantaggi, vinto un altro vantaggio, anche il tie break fino alla fine. L'importante per noi era sbloccarci un pochino, siamo riusciti a fare un punto e quindi buono, speriamo di aver incanalato la strada giusta. Cuore e sacrificio dimostrano appunto che la callipo sempre dietro nei vantaggi, nei parziali è riuscita a pareggiare i conti e poi peccato per l'ultimo set. D'altronde questo è il livello della Superlega, insomma a livello alto dove le squadre ti concedono poco, adesso man mano che si andrà avanti tutti giocheranno sempre meglio, quindi concederanno sempre meno. Noi penso che, come ho detto prima, siamo rimasti attaccati a Trento, siamo riusciti ad andare qualche volta avanti, qualche volta sotto li ha recuperato. Insomma si è vista, penso, una squadra molto aggressiva, molto vogliosa di riscattarsi dell'ultimo periodo. Una gara che ha messo in mostra anche magari chi gioca di meno, stasera domagala ha fatto il suo in pieno. Sì, contando che è un ragazzo di 19 anni, direi che è entrato molto bene, con personalità, che è quello che ci vuole, in battuta, in attacco, non ha avuto paura, è andato molto tranquillo. Quindi bisogna fare i complimenti, insomma, un ragazzo che si sta impegnando tanto, che sta crescendo piano piano, quindi benvenga che ci sia anche lui.